buon dì a tutti in questo nuovo video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa maglia da poter indossare sopra dei fusone che io ho deciso di chiamare maglia prisma blu per poterla realizzare ho unito tra di loro due filati diversi e sono il filato della lana gatto linea calico e il filato della mistrico filati linea baci rubati io ho optato per queste due tonalità del blu vi ricordo che il calico è 50 grammi ed è formato dal 50% lana e 50% acrilico mentre il baci rubati è sempre da 50 grammi ma è formato dal 97% microfibra e 3% il lame e come vi ho detto io ho optato per questi due colori perché mi piaceva il contrasto che dava il baci rubati scuro rispetto al colore più chiaro del blu del calico per quanto riguarda altri accostamenti però voglio mostrarvi i due o tre che trovo veramente carini i due sono molto uguali tra di loro quindi ve li faccio vedere molto ed è se siete dei tipi romantici quindi vi piacciono le colorazioni un po' più tono su tono vi consiglio queste due quindi rosa con il baci rubati rosa o il bianco del calico col baci rubati bianco in modo da avere un tono sul tono e le strisce che luccicano, brillano di meno, si notano meno ma hanno sempre quella tonalità che stacca comunque un pochettino mentre se volete creare proprio un vero distacco un altro accostamento che vi consiglio è questo che è formato dal grigio scuro del calico e il nero con il lame nero tono su tono questo vi permetterà di avere le strisce che invece risaltano maggiormente potreste fare anche l'inverso ossia utilizzare il lana gatto color nero e il baci rubati colore grigio scuro con il lame argentato quindi veramente vi potete sbizzarire a unire tra di loro i colori che più vi piacciono per quanto riguarda la quantità io ho utilizzato 300 grammi del calico e 50 grammi del baci rubati mentre per una taglia M vi occorrono 350 grammi del calico e 100 grammi del baci rubati per una taglia L invece 400 grammi del calico e sempre 100 grammi del baci rubati e io ho lavorato sempre solo con l'uncinetto del 4 e mezzo in descrizione come sempre vi lascio il link al sito filati Elsa da cui potete appunto acquistare i miei stessi filati nei colori che più vi piacciono un'altra cosa da dirvi è che la lavorazione parte dal sotto e sono tre giri che vanno sempre ripetuti e che danno vita a questo particolare lavorazione che sono dei piccoli prisma e io trovo molto carini ho optato per una lavorazione forata perché comunque stiamo andando incontro alla primavera quindi non volevo una lavorazione troppo chiusa ma comunque una maglia che potessi indossare sopra dei fuson come lo sto facendo adesso e con sotto un top a fascia come lo sto facendo adesso in modo tale da poter sfruttare questo maglioncino comunque in lana nel periodo di maggio-aprile con sopra una bella giacchetta nera o una giacchetta di un altro colore che può essere qualcosa come blu che ho anche quella quindi mi raccomando quando scegliete il colore per poter realizzare la maglia pensate anche a questo, la giacca da poterci abbinare sopra detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia che desiate realizzarla e se è così, come sempre mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncintando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncintare e Sferuzzare oppure potete adagami su Instagram dove mi troverete come Elsa faccio e vi ricordo sempre che da oggi mi potete contattare per avere questa maglia o anche altre creazioni che ho fatto personalizzate nel senso non avete tempo, non sapete come fare, posso realizzarvela io, basta che mi mandate tutte le vostre misure detto ciò, noi ci vediamo al prossimo video tutorial per realizzare la nostra maglia io utilizzerò due filati il filato della lana gatto linea calico e il filato della mistrico filati linea baci rubati lavererò principalmente con il filato calico del baci rubati ne userò pochissimo perché farò soltanto una striscia ogni tanto del mio motivo per poter dare un po' di brio a questa maglia non fa la tutta monocolore quindi iniziamo io lavorerò con un cento del 4,5 ho montato 135 catenelle la lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 3 e si inizia da sotto per una taglia M io vi consiglio di montare almeno 4 se non anche 5 motivi in più per una taglia L andate a montare io direi 10 motivi in più quindi tenendo presente che il multiplo è di 3 detto ciò possiamo andare a fare il nostro primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due e tre catenella di separazione prendo il filo rientro nella stessa catenella di base vado a fare una maglia alta catenella di separazione salto 2 catenelle ricomincio da capo quindi entro nella terza realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta salto 2 catenelle e ricomincio da capo entro nella terza e vado a fare una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta salto 2 catenelle ricomincio da capo devo fare questo per tutto il mio primo giro sto terminando il primo giro come vedete ecco qua sono tutti i ventagli entro nella terza catenella iniziale vado a fare una maglia bassissima andiamo a fare secondo giro e realizziamo 2 catenelle che sono sta prima maglia alta non chiusa vado alla maglia alta successiva realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme 2 catenelle 1 e 2 salto vado direttamente scusate dove ho la maglia alta successiva e si ricomincia da capo quindi vado dove ho la prima maglia alta del ventaglio e vado a fare una maglia alta non chiusa vado dove ho la seconda maglia alta del ventaglio e vado a fare un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme 2 catenelle 1 e 2 e di nuovo vado dove ho la prima maglia del ventaglio e realizzo una maglia alta non chiusa vado dove ho la seconda maglia alta del ventaglio e realizza un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme 2 catenelle 1 e 2 ricomincio da capo devo fare questo quindi per tutto il mio secondo giro una maglia alta non chiusa vado mai alta successiva una seconda maglia alta non chiusa le chiude insieme 2 catenelle sto terminando anche il secondo giro fatto di 2 catenelle entro nella terza catenelle iniziale vado a fare una maglia bassissima terzo e ultimo giro vado a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 catenelle di separazione 1 e 2 prendo il filo vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme e vado a fare una maglia alta e ricomincio da capo 2 catenelle vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle 1 e 2 vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle vado le due maglie alte chiusi insieme vado a fare una maglia alta 2 catenelle e continuo così per tutto il terzo e ultimo giro terminato il terzo vi farò rivedere come fare il primo e poi vedrete che la lavorazione vi porterà a realizzare dei piccoli prismi se vogliamo chiamarli così quindi adesso continuo a lavorare il terzo giro vi farò vedere come terminare come iniziare col primo sto terminando anche il terzo e ultimo giro entrò nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima quindi ritorniamo a fare il primo giro che vi ricordo era 3 catenelle che sono la prima maglia alta catenella di separazione si prende il filo e si rientra nella maglia alta prendo il filo e vado a fare il ventaglio sopra la maglia alta successiva quindi una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta e si continua così quindi questo ripeto sono i tre giri che andremo sempre ripete io continuerò a farli vi dirò poi ogni tot quanto cambiato per mettere il baci rubati e quanti motivi ho fatto per arrivare agli scalfi sono arrivata all'altezza degli scarti e come potete vedere sono andata anche a cambiare il filato nel senso in questo modo ogni volta che ho fatto quattro motivi il quinto lo sono andata a fare col baci rubati però facendo soltanto il primo e il secondo giro e poi sono tornata a lavorare normalmente con l'altro filato quindi ogni vedete quattro motivi 1 2 3 e 4 il quinto lo iniziavo facendo il primo e il secondo giro con il baci rubati e adesso come vi ho detto ho fatto tredici giri in totale e sono andata a mettere i miei marcatori per mettere i marcatori o contatto il gruppo e le maglie alte e ne ho un totale di 45 quindi ne ho messi 23 avanti e 22 dietro vi ricordo quello di spari va sempre messo sul davanti perché sul davanti abbiamo il seno quindi la maglia tende a tirare di più e sono andata a mettere il marcatore tra la prima maglia avanti e la prima maglia dietro quindi vedete è qui tra l'ultima maglia avanti quindi la ventitresima e l'ultima del dietro quindi la ventiduesima adesso possiamo andare a fare sempre il nostro motivo però in giri di andate ritorno per lavorare in giri di andate ritorno lavoreremo in questa maniera il primo giro vado a fare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta prendo il filo vado direttamente nella maglia alta successiva e vado a lavorare i miei ventagli quindi entro nella maglia alta e realizzo una maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta vado nella maglia alta successiva e di nuovo vado a lavorare normalmente mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione rientro maglia alta continuo così per tutto il giro vi farò vedere come terminare come iniziare col secondo giro sto terminando il primo giro come potete vedere mi manca l'ultima maglia alta prima del marcatore quindi vado e vado a fare una maglia alta in questa maniera mi giro con la lavorazione vado a fare il mio secondo giro e realizzo 3 catenelle che sono sta prima maglia alta quindi una due e tre 3 catenelle di separazione scusate 2 catenelle di separazione 1 e 2 e vado adesso a lavorare normalmente le due maglie alte chiuse insieme quindi vado però la prima maglia alta quindi dopo quella successiva e vado a fare una maglia alta non chiusa vado la maglia alta successiva e realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alti insieme 2 catenelle 1 2 e ricomincio da capo vado nella prima maglia alta realizzo una maglia alta non chiusa entro nella seconda del ventaglio realizzo un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte 2 catenelle e continuo così quindi per tutto il secondo giro vi farò vedere come terminare come iniziare poi il terzo giro sto terminando anche il secondo giro vado a fare le ultime due maglie alte chiusi insieme quindi entro nella prima maglia alta e faccio la maglia alta non chiusa entrò nella seconda e faccio un'altra maglia alta non chiusa chiudo le due maglie alte insieme 2 catenelle entrò nella terza catenella di separazione di che come aveva la mia prima maglia alta e vado a fare una maglia alta adesso mi giro con la lavorazione vado a fare il mio terzo e ultimo giro e andiamo a fare quindi 3 catenelle che sono sta prima maglia alta 2 catenelle di separazione vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme realizza una maglia alta 2 catenelle vado dove ho le due maglie alte chiusi insieme realizza una maglia alta e continuo così per tutto il terzo giro e poi si ricomincerà da capo come avevo fatto il primo giro naturalmente quindi e adesso quindi continuerò così per tutto il terzo ciro e poi si riparte dal primo giro mi raccomando se state facendo come me a questo circolo il primo motivo motivo che andremo a ripetere lo dovremmo fare con i baci rubati perché questi sono già quattro motivi quindi il quinto motivo lo sto facendo col baci rubati detto ciò naturalmente vi dirò quanto è volto ripetuto questo giro per arrivare altezze delle spalle faremo la stessa cosa dietro e poi andremo a fare le maniche allora ho terminato la parte dietro e la parte avanti della maglia allora ho ripetuto il motivo 123 volte però quando sono andata a fare il quarto motivo ho fatto soltanto il primo giro in realtà non per tutta la lunghezza come potete vedere qui io ho fatto il primo giro del mio quarto motivo ho fatto soltanto 4 ventagli e ho terminato con la maglia alta stessa cosa da quest'altra parte ho fatto la maglia alta iniziale 4 ventaglio terminato con la maglia alta mentre dietro ho fatto il quarto il quarto motivo quindi il primo giro del quarto motivo tutto intero questo mi permetterà di avere uno scollo più ovale quindi non tirato come facciamo solitamente quindi avere questa micro spallina per avere il collo più ovale adesso posso andare a fare le maniche per una taglia n vi consiglio di fare totali quattro motivi e iniziare il quinto motivo per una taglia l vi consiglio di fare cinque motivi e iniziare il sesso in modo tale appunto da avere lo scatto più largo per poter fare la manica io continuo di comincerò a lavorare nella parte sotto della manica quindi vedete qui dove abbiamo la maglia alta del dietro la maglia alta del davanti lavorerò sempre con un centro del quattro e mezzo e lavorerò sempre con il filato al calico però ogni quattro motivi come abbiamo fatto per la maglia i primi due giri del quinto motivo l'andrò a fare col bacio rubati quindi mi aggancio sotto e vado a fare il primo giro quindi vado a realizzare 3 catenelle che sono mia prima maglia alta catenella di separazione rientro da fare un'altra maglia alta vado nella maglia alto orizzontale successiva di nuovo da fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione rientro un'altra maglia alta adesso salto una maglia alto orizzontale vado dove ho invece la maglia alta orizzontale successivi scusatemi nel forellino tra le due maglie alte orizzontali vado a fare il mio ventaglio quindi maglia alta catenella di separazione maglia alta faccio in questa maniera perché non devo andare allargare il mio scalfo quindi la manica mi deve essere non troppo larga né troppo stretta quindi vado così se invece avete bisogno di allargare o di stringere la manica perché la volete fare più larga più stretta andate ad allargarla facendo più maglie cioè il ventagli tra ogni nonni maglia maglia alto orizzontale se invece dovete stringere ulteriormente la prossima maglia alta invece di fare come me che io adesso vado dove ho la maglia alto orizzontale non la prima ma la seconda andare invece a fare qui dove avete il forellino piccolo questo se dovete stringere un po la lavorazione io adesso continuerò a lavorare in questa maniera alternando un po le maglie alte vi dirò alla fine scusate i ventagli e vi dirò alla fine quanti ventagli ho fatto per tutto il giro manica allora di ventagli in totale ne ho fatto 15 quindi chiudo la mia ma è la mia primo giro andando a fare una maglia bassissima e adesso possiamo andare a fare il nostro secondo giro quindi ritorneremo a fare la lavorazione in tondo quindi senza che la faccio rivedere ricordatevi sotto solo che se state facendo come me che alternate il colore ogni volta che arrivate al quarto motivo il quinto motivo i primi due giri lo fate col baci rubati ho terminato la manica ho fatto in totale 15 motivi ma dell'ultimo motivo ho fatto soltanto i tuoi primi e due primi giri in modo da non finire con il giro di maglie alte adesso però anche la seconda manica e la nostra maglia sarà così terminata